buongiorno a tutti e bentrovati nella lezione di oggi ci soffermiamo sulla biografia di un grande personaggio dell'antichità alessandro magno tutti abbiamo sentito nominare almeno qualche volta nella vita questo questa figura magari abbiamo visto qualche film o abbiamo sentito qualche racconto qualche leggenda legata ad esso e quindi può essere bello ripercorrere almeno per sommi capi la vita di questa personalità cominciamo con il dire che alessandro nacque a pella nel 356 avanti cristo e che la sua educazione fu affidata al filosofo greco aristotele che era praticamente il più autorevole pensatore della sua epoca questo ebbe una grande importanza nella formazione di alessandro magno in quanto riuscì ad instillare in lui la passione per la cultura greca cultura che il giovane alessandro imparò a conoscere attraverso la lettura dei poemi omerici quindi l'iliade e l'odissea nei quali si esaltavano i valori della forza militare di ettore di achille o anche l'astuzia di ulisse nel 338 avanti cristo quindi all'età di 18 anni alessandro aveva già offerto una prima importante prova militare aveva infatti combattuto valorosamente a capo della cavalleria nella battaglia di cheronea e quella battaglia nel corso della quale i macedoni stroncarono le truppe dei greci alessandro era molto legato alla figura materna quindi soffrì molto quando il padre lasciò sua madre olimpiade per passare a nuove nozze ma ancora più grande fu il dolore che dovette affrontare quando venne ucciso il padre nel 336 avanti cristo a quel punto alessandro aveva vent'anni e prese in mano le redini del regno quindi andando poi nel tempo ben oltre quelli che erano i sogni del padre e conquistando di fatto l'impero più vasto sino ad allora conosciuto al culmine del potere cadde però vittima di una febbre maligna e quindi nel 323 avanti cristo morì insomma precocemente ecco fu proprio la sua morte così improvvisa e appunto in età così prematura a far sì che la sua figura diventasse subito un mito e abbiamo innumerevoli opere pittoriche scultore che ricordano questa figura quindi già dall'antichità e fino anche alla nostra epoca ad esempio molto famosa la rappresentazione che si trova nella scultura del suo sargofago conservata in stambul dove il giovane re era raffigurato a cavallo del suo amato destriero bucefalo ecco anche alla figura di bucefalo quindi del suo cavallo si ricollega una leggenda questa leggenda racconta che il cavallo era stato acquistato da filippo ma nessuno a corte quindi dal padre di alessandro ma nessuno a corte riusciva a domarlo il giovane alessandro astutamente osservando il comportamento del cavallo si era proposto di montarlo e vi riuscì questo perché aveva notato che bucefalo aveva paura dei movimenti della propria ombra e quindi lo aveva rivolto con il muso verso il sole prima di salire in sella e la leggenda ci racconta che da quel momento in poi bucefalo non si lasciò montare da nessun altro e per oltre un decennio di battaglie alessandro non ebbe altro destriero ecco facciamo adesso anche solo un rapido accenno a quelle che furono le conquiste compiute da alessandro magno che appunto come si diceva prima mancò a soli 33 anni e tuttavia riuscì a compiere una serie di gesta divenute leggendarie innanzitutto abbiamo detto prima divenne re di macedonia in seguito alla morte del padre filippo politicamente anche militarmente era stato istruito dal padre e culturalmente invece da un punto di vista intellettuale da aristotele quindi nel 336 quando diviene re di macedonia dopo la scomparsa del padre per prima cosa stronca con forza i nemici interni che avevano comandato l'uccisione di filippo e decide di consolidare le posizioni macedoni in grecia ottiene dalla lega di corinto il titolo di comandante supremo militare della lega e nel 335 distrugge la città ribelle di tebe rendendone schiava l'intera popolazione una volta consolidato il dominio in grecia alessandro magno decide di riprendere i piani di suo padre filippo per liberare i greci d'asia che erano finiti sotto il regno dei persiani sbarca quindi in asia nel 334 con una grande flotta un grande esercito al suo seguito per attaccare i persiani si racconta fra l'altro che si recò a troia per omaggiare la tomba di achille e che nello stesso anno a gordio riuscì a tagliare con la spada al nodo gordiano nel 333 avanti cristo sconfigge a esso le truppe del re persiano dario terzo e libera tutte le città greche che quindi da lì da qui in avanti lo salutano come un liberatore ecco si può dire che oltre a cercare di consolidare le proprie vittorie alessandro ha proprio anche desiderio di sconfiggere quelli che ritiene i barbari per eccellenza i persiani e di creare un regno un impero di creare un vero e proprio impero macedone questi questo desiderio questa forte ambizione lo spinge ad intraprendere una serie di conquiste in asia e in africa nell'africa del nord grazie alla quale riesce a porre fine a sconfiggere l'impero persiano e creare un vasto impero macedone che si estende dalla macedonia all'india nel 332 conquista la fenicia la siria l'egitto nel 331 sconfigge di nuovo dario e nel 325 giunge sino in india per rafforzare i confini dell'impero e intraprendere nuove conquiste ecco dicevamo prima che muore appunto a soli 33 anni quindi nel momento in cui aveva già messo insieme un impero immenso certamente anche molto difficile da gestire quindi era al culmine della gloria ma possiamo dire anche al culmine dei problemi questo perché chiaramente i costi delle delle campagne di conquista iniziavano a farsi sentire soprattutto anche per quanto riguarda i costi umani quindi delle forme di insofferenza nel suo nei suoi confronti forme di insofferenza che alessandro era solito reprimere con violenza quindi tutte le volte che una rivolta cercava di mettere in discussione la sua autorità lui la stroncava ecco vediamo di capire quindi quali sono le le ragioni del successo di alessandro magno quindi queste imprese portate a termine parvero ai contemporanei delle imprese straordinarie irripetibili tanto che gli valsero l'appellativo di magno ossia il grande sono pochi i personaggi nella storia che vengono ricordati con questo aggettivo pensiamo anche a carlo magno gregorio magno eccetera ma sono veramente pochi ecco quindi che cosa ha fatto sì che alessandro di macedonia venisse ricordato come alessandro magno sicuramente in buona parte le ragioni vanno cercate anche in uno stato di profonda debolezza in cui all'epoca versava l'impero persiano quindi il potere centrale di questa civiltà non era più forte come i tempi di dario e di serse e i satrapi ne avevano approfittato per riuscire ad avere degli ampi margini di autonomia era venuta anche meno la tradizionale tolleranza nei confronti delle numerose popolazioni che componevano l'impero e che si dimostravano sempre più insofferenti verso il grande re a questi elementi bisogna chiaramente aggiungere anche le doti militari strategiche di alessandro che ovviamente erano molto al di sopra della della norma quindi una personalità certamente forte con un alto livello di autostima diremmo oggi quindi una persona profondamente convinta della possibilità di riuscita delle proprie imprese e anche sicuramente capace di pianificare delle strategie vincenti quindi molto abile a prendere decisioni anche in situazioni difficili ed estreme dimostrando un grande genio militare non da ultimo alessandro ebbe la capacità l'abilità di presentare se stesso come il liberatore dei popoli dall'oppressione del gran re persiano quindi riuscì a porsi come una figura benevola quindi da un lato rispettò le tradizioni locali di ogni popolazione quindi evitò di imporre con la forza gli usi le tradizioni greche ma al contempo impose ovviamente anche il proprio dominio senza però che passasse una un'immagine troppo dispotica quindi questa come la storia ci dimostra anche in altri casi si rivela spesso una strategia vincente e con questo abbiamo terminato questa piccola presentazione su alessandro magno vi ringrazio come sempre per l'attenzione vi invito ad esplorare anche le diverse playlist del canale dedicate ad argomenti di caratteri didattico e culturale e se non lo avete ancora fatto ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità arrivederci e buona navigazione che pure agitando attivo che attivo attivo Grazie a tutti.